Daniele Di Cicco, Internazionale d'Italia qui a Ortona, appena terminata la tua gara, come è andata? Eh, poteva andare meglio, Giuseppe. Purtroppo in gara 1, cioè la giornata era delle migliori, bella giornata, la moto andava bene, tutto a posto, non ho preso una buona qualifica perché purtroppo la temperatura si è abbassata da un giorno all'altro, però prometteva bene la gara, l'unico problema è stato che a gara 1 c'è stata una scivolata davanti a me che avessero coinvolti parecchi piloti e anche io ne ho fatte parte, quindi sono rimasto a terra partendo ultimo, però facendo una grandissima rimonta e ho dato tutto quello che avevo, l'hanno visto anche gli altri in realtà. Beh sì, anche in gara 1, poi anche in gara 2 sei stato un leone in pista. Sì, in gara 2 sono più contento perché in realtà sono partito meglio, non ho avuto problemi di contatti, poi due o tre sorpassi, qualche caduta e ho chiuso in quarta posizione, anche se le mie aspettative erano altre in realtà, però le gare purtroppo non sono tutte uguali, a volte la scelta dei pneumatici la fai giusta, a volte sbagli, si creano i problemi e non ti fanno arrivare il risultato che vuoi. La truppa del Vastese è andata bene perché anche dei Filippis e del Bonifero hanno fatto le loro buone cose, chiaramente il livello è molto alto per loro che col Mozart sono all'inizio diciamo. Sì, loro sono andati benissimo e in più per loro è stata una prima esperienza nell'internazionale d'Italia, sì, io li avevo già anticipati a entrambi che il livello era molto molto alto, loro infatti hanno visto il risultato che era veramente esagerato perché purtroppo non è semplice arrivare alla vetta, bisogna lavorare tanto, però loro sono ragazzi giovani e hanno tanto da fare, tanto da dare e quindi per loro è stata comunque una grandissima esperienza sicuramente. Il tuo team ha portato anche un altro pilota, poi un giovanissimo pilota, da responsabile del DDC Racing Team puoi essere soddisfatto? Sicuramente sì, infatti la giovane promessa è Fabio Del Giovane che ha 13 anni, alla fine si è piazzato in diecima posizione, c'erano due categorie all'interno del totale, comunque sono contentissimo perché l'abbiamo fatto girare con una moto che lui non conosceva e quindi è andato più che bene e sono contento di aver riconosciuto lui e tutta la sua famiglia che sono persone squisite.